Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, ci parliamo di Thailandia. Ci sono tanti aggiornamenti anche oggi per quanto riguarda appunto la situazione dei viaggi e le ultime novità che il Paese ha deciso di intraprendere per supportare il turismo, appunto in particolare per quanto riguarda il turismo internazionale. Quest'oggi ovviamente andiamo a vedere, a partire dal comunicato della TIT, sul loro sito dove vanno a ricapitolare quelle che sono le decisioni dell'ultime giornate. Andiamo a vedere anche quella che è la situazione pandemica, facciamo un punto anche sulle altre situazioni che ancora non sono state definite ma che potrebbero essere importanti per quanto riguarda poi, come dicevo, i viaggi. Parliamo anche di assicurazioni per quanto riguarda i viaggi in Thailandia. Sappiamo che l'assicurazione in questo momento non è più obbligatorio, però a mio avviso comunque è sempre bene monitorare la situazione e farla perché i benefici secondo me sono molti di più rispetto al beneficio di risparmiare con la quota di denaro, appunto per fare la polizza assicurativa. Come sempre, ragazzi, prima di cominciare il video, questa è la mia playlist Thailandia del mio canale YouTube. Ci sono tanti video aggiornati con tutte le novità appunto per quanto riguarda la Thailandia. Ci sono ovviamente video che possono aiutarti a prendere le decisioni giuste per il tuo viaggio in Thailandia. Come sempre, se ancora non l'hai fatto, intanto ti invito a iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video e delle prossime live che faremo sul canale, ti chiedo anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ora, come sempre, ragazzi, sigla e poi cominciamo con l'episodio. Quest'oggi casi Covid ancora in discesa, soltanto 1784 casi. Il numero è, come dicevo, sempre in diminuzione. Questo, come sempre, è una notizia positiva per un paese che ormai ha completamente riaperto al turismo, ma anche a livello ovviamente interno. Non ci sono più particolari restrizioni. Questo aggiornamento che fornisce il Banco Opposto è comunque utile appunto per mantenere il numero controllato. Ci spostiamo poi sul sito di TIT, appunto l'ente del turismo tailandese, che fornisce il ragionamento ufficiale con tutte le decisioni che sono state prese. Insomma, appunto la prima è l'abolizione del Thailand Pass, seguita poi dall'abolizione dell'obbligo di avere la polizia sanitaria con copertura fino a 10.000 dollari. Sono soltanto richieste, nel senso che a campione potrebbero essere richieste le persone vaccinate di vedere il certificato vaccinale, chi non vaccinati, di vedere il tampone che è stato fatto. È importante che questo può essere in formato cartaceo o in formato digitale, quindi se lo avete su vostro smartphone non serve stamparlo. Appunto si parla di controlli a campione. Sappiamo poi che la Thailandia ora è diventata completamente zona verde, quindi non ci sono più le sezioni interne. È importante anche quello che dice la TIT, che ci sarà poi l'applicazione di tutto e la pubblicazione della Thai Royal Gazette, quindi la ragazzetta reale, dove ci sarà l'ufficialità delle norme prese e ovviamente leggeremo ulteriori dettagli per quanto riguarda poi le decisioni prese. Altra notizia è che è stato rimosso quello che era il ban del divente dell'alcol dalle 2 alle 5, questo era una cosa che in realtà già era stata schippata, però ora è ufficiale, quindi per dire un bar, un albergo. Possono vendere tranquillamente alcol anche in questa fascia pomeridiana. È una notizia anche questa, ripeto, che è stata mandata a corollare con le decisioni sul Thailand Pass, e ripeto, questo è un ulteriore passo appunto verso così la normalità. C'è poi, vi ricordo anche, che è stato sospeso il modo TM6, ne abbiamo parlato in un video precedente, che è quel tagliandino cartaceo che ricevete quando stiamo per atterrare in Thailandia. Al momento non sarà più necessario compilarlo l'arrivo ed è sicuramente un balzello inutile che c'era, considerando anche la presenza del Thailand Pass, ma al momento pare che appunto non ci sarà più. Vedremo poi ulteriori dettagli che verranno pubblicati, però anche questa, come vi riportavo nei giorni scorsi, è una notizia positiva. Manca poi l'appello, l'aggiornamento per quanto riguarda il Thailand Beat Exceptions. Sappiamo che nei giorni scorsi si parlò di un'estensione da 30 giorni attuali, quindi 30 giorni che avete all'arrivo fino a 45 giorni. Al momento non ci sono ancora novità, nel senso che c'è una certa spinta per ottenere i 45 giorni, perché viene vista come la possibilità di sopportare il turismo e di abbattere anche i costi di quelle persone che vogliono stare in Thailandia un pochino di più di un mese. Vedremo quale sarà l'aggiornamento. I 45 giorni furono introdotti poi l'anno scorso, quando c'era la quarantena di 14 giorni, mentre al momento, ripeto, si è tornati al vecchio schema del Visa Exemption Schema 30 giorni. Ripeto, c'è un po' di fermento su questa cosa e vediamo se magari da qui a metà luglio verrà presa la decisione di estendere a 45 giorni. A mio avviso non ha senso, se lo si vuole fare, aspettare ancora, perché le persone stanno pianificando i viaggi già adesso, nel senso che già adesso, comunque, chi aspettava l'abolizione di Thailand Pass si ritrova a pagare quantomeno intanto un volo, che costa sempre 30-40% in più degli anni scorsi. Quindi, secondo me, si è già in ritardo fare eventualmente questo provvedimento, però meglio tardi che mai, come direbbero poi, i saggi. Andiamo poi, per quanto riguarda il discorso della polizza, sappiamo che è stata tolta, nel senso che non è più obbligatoria, però sappiamo anche che è importante farla, perché, insomma, quello che rischiate poi non facendola è così, sicuramente rischiate di più rispetto a quello che risparmiate. Ci sono diverse società che offrono in questo momento la copertura, Allianz, Tune, Tune, ne ho parlato molto spesso sul canale, insieme anche a Axel Italian Pass. Ora vedremo quello che sarà l'aggiornamento delle offerte, nel senso che non è stato giusto più il Tunein Pass, i pacchetti verranno aggiornati, però nella sostanza quello che dovete cercare sono polizzi, che vi coprono completamente, soprattutto, ad esempio, vedevo questa di Allianz, che mi sembra molto interessante, perché ha anche la copertura sui motocycle, quindi se avete voglia o pensate di utilizzare il motorino, forse questa vi può offrire una buona copertura, ripeto. Poi entraremo nel dettaglio di quelle che sono le polizze, magari, ripeto, nelle prossime giornate, quando ci saranno più proposte disponibili, ed è per questo che intanto acceniamo appunto questo schema. Qui io ho inserito quella che è la mia configurazione, circa un mese di viaggio, la mia data di nasce, perché ovviamente l'età ha un impatto anche sul prezzo, e vedete che, insomma, partendo da Italia, arrivando in Thailandi, i prezzi vanno da 2045 Watt fino a 2800 Watt, quindi stiamo parlando di cifre ampiamente sotto ai 100 euro per una vacanza di un mese, ripeto, considerando i costi di quest'anno, direi che non è nulla, poi c'è, insomma, il pacchetto anche di Tune, ancora più completo, ripeto, fate delle valutazioni attente, soprattutto, ripeto, se banalmente vi va ad utilizzare il motorino tra Allianz e Tune. Allianz ha la copertura, Tune non ha la copertura. Ovviamente poi di Polite ce ne sono tantissime, io ho utilizzato poi quelle che sono più note in Thailandia, ma ripeto, fate come sempre le vostre valutazioni. Ovviamente, ragazzi, come sempre, soprattutto sul tema di assicurazione, ci torniamo, perché facciamo altre simulazioni, perché anche io personalmente devo ancora scegliere quale comprare, ma io viaggio a settembre, quindi ho ancora un bel po' di tempo, ma come sempre, anche se voi avete delle soluzioni che state valutando, fatemi sapere qui sotto nei commenti che appunto poi ne possiamo parlare sul canale. Come sempre, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Come sempre, ragazzi, quindi grazie per aver visto il video fino adesso. Ci sentiamo quindi nelle prossime giornate, sempre con i nuovi aggiornamenti. Per quanto riguarda la Thailandia, un abbraccio e a presto.